Con la giornata di ieri un terzo di stagione regolare della MLB se ne è andata, di conseguenza tempo per il mio canale della seconda puntata della MLB Review, l'appuntamento mensile con il meraviglioso gioco del baseball dove si analizzano classifiche ed episodi attorno alla massima serie di baseball americano. Come al solito partiamo dall'analisi rispetto magari alle previsioni della vigilia, rispetto magari all'inizio di stagione oppure all'ultima puntata della MLB Review che parlava evidentemente del primo mese di regular season, due mesi è vero non sono tanti ma appunto come dicevo all'inizio è passato un terzo di stagione, di conseguenza qualche verdetto qui e lì si può già notare al netto che appunto come sempre i giochi si faranno da dopo l'All Star Game in avanti. Partiamo come al solito da parlare dell'American League East che è la division sicuramente più interessante, il primo colpo d'occhio su questa divisione è che nessuna squadra ha un record perdente, è qualcosa di clamoroso, sapevamo già all'inizio che questa American League East poteva essere un bagno di sangue ed effettivamente lo è stato, di certo probabilmente i pronostici non davano i Tampa Bay Rays in testa o comunque con un margine così ampio, potevamo aspettarsi la squadra di Kevin Cash magari allottarsela con Toronto, Yankees, questi Baltimore Warriors che sono sempre più in crescita e invece Tampa Bay Rays, aggiorniamo comunque la voce, pare non perdano perché 40 vinte e 18 perse è letteralmente il miglior record dell'American League e a momenti dell'intera Lega. Una squadra costruita sempre con il solito sistema, un payroll ridicolo perché parliamo del 26esimo Montistipendi della Lega ma con un farm system veramente clamoroso. Il dato che in realtà salta maggiormente all'occhio è il differenziale tra punti subiti e punti effettivamente fatti perché parliamo di 340 punti segnati contro 221 subiti, una difesa dei Tampa Bay Rays veramente sugli scudi da sempre è stato il punto di forza della formazione di Kevin Cash ma un differenziale di 119 punti, veramente neanche i più grandi squadroni della storia e appunto fa specie da certi punti di vista che avere questo differenziale sia una squadra che appunto come payroll è nei bassi e fondi della Lega. Il motirilancio dei Tampa Bay Rays è sempre più solido, la difesa è sempre più solida e anche l'attacco quest'anno ci si è messo veramente del brutto, 40 vinte, 18 perse per la formazione di Kevin Cash. È un record vicino al 70% di vittorie, qualcosa di veramente incredibile attenzione perché i Tampa Bay Rays sono una squadra che sono stati costruiti per i playoff con questo farm system molto particolare ma se continuano così altro che playoff ma ovviamente i giochi come sempre si fanno più avanti. In seconda posizione per quanto riguarda l'American League East invece abbiamo i Baltimore Orioles, abbiamo detto squadra in crescita che l'anno scorso hanno fatto una stagione sopra le aspettative e quest'anno quei giovani tanto aspettati effettivamente hanno fatto il salto di qualità. Ecco spiegato perché il record della formazione di Ryan Hyde è 35 vinte e 21 perse, Brandon Hyde in realtà ex coach dei Chicago Caps, geritore di prima. 5 vinte e 5 perse nelle ultime 10 ma comunque è un record sufficientemente solido per una formazione di Baltimore che è agilmente in seconda posizione da sola al netto che gli Yankees stanno arrivando. I Yankees che sono terzi a 34 vinte e 24 perse, è vero che gli Yankees hanno avuto degli infortuni molto importanti soprattutto nel reparto esterno, è vero che il monte di lancio tolto Garrett Cole ha reso evidentemente il giusto ma è spiegato il motivo. Gli Yankees hanno sempre avuto almeno 10 giocatori infortunati e molti dei quali sono lanciatori partenti, di conseguenza è una rotazione un po' uoca quella della formazione di Aaron Boone che comunque ha un onesto 34-24 che appunto è un record che in altre divisioni vorrebbe dire seconda posizione e nella central addirittura vittoria della division in carrozza ma della central ne parleremo più avanti. Chi è partito piano in questi primi due mesi di stagione è Toronto, anche qui parliamo di una squadra giovane ma con più potenziale, di base Toronto la mettiamo nella seconda posizione della division, comunque in lotta in generale per l'American League anche con le superpotenze, vedi appunto gli stessi Yankees, Houston Astros, potenzialmente questi Texas Rangers, insomma una squadra che potrebbe effettivamente fare di più ma che secondo me ha ancora tanto lavoro da fare. Gli manca il centesimo per fare l'euro, non basta evidentemente Vladimir Grelo Jr., i Toronto Blue Jays sono comunque in un periodo negativo, 4 vinte nelle ultime 10 e comunque perdere così tante partite anche con altre avversarie che non sono più quelle della division interna ma delle division esterne, quindi central e west evidentemente equilibra un po' i valori in campo di questa division che comunque rimane la più incredibile evidentemente dell'intera MLB. Perché parliamo di una division come appunto dicevamo all'inizio che non vede nessuna squadra perdente, pure i Boston Red Sox che sulla carta non sono la squadra più forte di questa division sono sopra il 50% di vittorie con una sola partita di margine perché parliamo di 28-27 ma è clamoroso che come una squadra non in salute perché i Red Sox per esempio hanno vinto 3 partite nelle ultime 10 potenzialmente potrebbero essere in seconda posizione nella scarsissima American League Central. American League Central di cui peraltro andiamo a parlare perché una delle storie di questo appuntamento con la MLB Review arriva proprio dalla American League Central e in particolare dalla prima posizionata in questa divisione che ripeto è molto poco competitiva. L'unica squadra sopra il 50% di vittorie sarebbe o meglio è Minnesota, i Twins sono primi con 29 vinte e 27 perse, lo stesso record identico dei Toronto Blue Jays che sono quarti invece a est. Ripeto, il centro in generale sia per quanto riguarda l'American League sia per quanto riguarda la National League è oltremodo poco competitivo ed evidentemente la cartina di torna sole è il fatto che Detroit sia seconda con un record perdente. 26 vinte e 28 perse, Detroit è una squadra in pieno tanking, in piena rifondazione e non dovrebbe essere in seconda posizione, è lì semplicemente per le disgrazie altrui e perché questa divisione fa abbastanza pietà. Paradossalmente Detroit arrivando magari con un periodo di forma simile a questo perché parliamo comunque di 6 vinte nelle ultime 10 potrebbe addirittura puntare al titolo di divisione e arrivare ai playoff con una squadra in puro tanking. È utopia, evidentemente in questo momento Detroit non arriverà a quei livelli lì però fa molto riflettere come appunto in questo periodo storico l'American League Central al mio modo di vedere sia la delusione principale dell'intero MLB perché i Guardians l'anno scorso ai playoff sono after the music per la loro potenzialità soprattutto i Chicago White Sox sono molto after the music per la loro potenzialità, i Guardians sono 25-30 con, è vero, 5-20 nelle ultime 10 ma poca roba per una squadra che comunque aveva fatto vedere cose buone lo scorso 2022 chi delude senza sé e senza ma è la formazione della parte sud di Chicago, i Chicago White Sox che dovevano evidentemente partire con ben altre ambizioni al secolo vincere la division con abbastanza facilità perché potrebbe esserci forse un duello con Minnesota sulla carta ma se l'avvio è questo evidentemente non ci sarà, i White Sox dopo che hanno mandato via Tony Larussa evidentemente non hanno ancora trovato la trebisonda, la luce in fondo al tunnel e abbiamo questo limbo incredibile verso il basso un po' come era prima che evidentemente i Chicago White Sox sono una squadra molto più competitiva 23 vinte, 35 perse per quanto riguarda i White Sox, l'unica squadra che sta dove dovrebbe stare è Kansas City, i Royals ultimi devono essere e ultimi saranno 17 vinte, 39 perse per la formazione dei Royals che ripeto non è più quella che arrivò in finale contro i Giants e perse quella finale mentre vinse quella successiva contro i May New York Mets vi parlavo però di una storia interessante all'interno dell'American League Central ed è quella di un giocatore in particolare che è rientrato dopo un anno di infortunio dopo esser si è rotto il crociato e parliamo di un giocatore del Minnesota Twins ovvero Royce Lewis che è stato un giocatore appunto mancato l'anno scorso ai Twins ed è un giocatore comunque di sostanza qui lo vediamo impegnato nella partita contro di Houston Astros, una delle squadre comunque sempre a tenere in considerazione non solo per l'American League il giro di Mazza su questa palla esterna da parte di Royce Lewis viene spedito fuori oltre alle recinzioni del Minute Maid Park è il fuoricampo di Royce Lewis al secondo turno di ribattuta dopo essere rientrato dall'infortunio e questa è sicuramente una bella storia da raccontare nel meraviglioso gioco del baseball peraltro Minnesota con questo fuoricampo ha messo tre punti sul tabellone sparato a 336 piedi dunque un grandissimo ritorno quello di Royce Lewis c'è un altro grandito ritorno nel mondo del baseball ma ne parleremo quando arriveremo nella National League tornando invece all'American League andiamo a parlare dell'American League West una division che evidentemente non è così scontata abbiamo i Texas Rangers che sono in prima posizione con 35 vinte e 20 perse evidentemente gli investimenti fatti nell'off season stanno veramente fruttando soprattutto va detto in realtà Marcus Semyon e Corey Seeger, Jacob DeGrom è evidentemente ancora in roster ma è infortunato è in lista di infortuni per due settimane quindi sono infortuni abbastanza seri, 7 vinte nelle ultime 10 per quanto riguarda i Rangers che per il momento vincono il derby texano con gli Houston Astros, 32 vinte e 23 perse per quelle che comunque rimangono i favoriti di questa division è una division quella della West dell'American League molto interessante, più interessante del previsto con finalmente 4 squadre sulla carta molto interessanti, più o meno competitive, non c'è così tanto distacco tra la prima e la quarta che è Seattle in mezzo ci sono i Los Angeles Angels che non sono ancora caduti a picco come spesso succede già nel mese di maggio 30 vinte e 27 perse per la squadra del GOAT, Shwayotani e dell'altro GOAT ovvero Mike Trout finalmente gli Angels possono provare a competere per qualcosa, basterebbe aumentare leggermente il proprio record per avere una division comunque più competitiva perché considerato che l'American League East è un bagno di sangue e le wildcard in questo momento, se parlassero di playoff uscirebbero da lì, è evidente come Angels, Houston, la stessa Seattle dovrebbero evidentemente fare ancora quel salto di qualità, è comunque una division interessante con gli Angels terzi a 30 vinte e 27 perse e Seattle quarta a 29 vinte e 27 perse, Seattle va detto in realtà paga lo scotto della partenza handicap del primo mese di stagione, adesso Seattle sta facendo veramente Seattle ed è a 7 vinte e 3 perse ultimi sono gli Oakland Athletics che ovviamente non fanno testo, sappiamo benissimo come la squadra sia in direzione Las Vegas almeno per il 2027, peraltro MLB ha manifestato i primi render della stagione di Las Vegas ed è veramente molto figo va detto però che Oakland appunto non fa testo, ne abbiamo già parlato l'unica chicca statistica per quanto riguarda Oakland e gli Athletics in generale è che su queste 12 vittorie che sono arrivate, veramente un record infimo va detto, 5 sono avvenute per walk-off quindi con una battuta che in situazione di parità ha mandato a casa nel nono o più inning evidentemente il punto del vantaggio e di conseguenza è arrivata la vittoria definitiva per la formazione di Mark Kotze passiamo adesso alla National League con un'altra division che potenzialmente è molto interessante la National League East con gli Atlanta Braves che dovevano essere lì e sono lì quindi in questo caso pronostico rispettato, annetto che Atlanta in questo momento è in un periodo abbastanza di flessione 33-20, 23 perse per i Braves, i Miami-Marnies sono la grande sorpresa di questa stagione per quanto riguarda la National League insieme a un'altra squadra di cui parleremo però nella National League Central Miami, 29-20, 27 perse, Jack Cisholm sta facendo Jack Cisholm fino a quando poteva adesso in realtà è in lista di infortuni, è una squadra molto interessante abbiamo un'Alcantara veramente in stato di grazia e questo basta evidentemente per soppiantare o comunque eguagliare i miei New York Mets che invece hanno delle difficoltà molto palesi a volte i Mets sono capaci di vincere partite molto interessanti anche con avversari di un certo tipo a volte si vedono sconfitte con squadre veramente in vere conda è una squadra che al momento i Mets devono ancora intraprendere una direzione ben precisa certo le partite di distacco non sono tantissime rispetto ai Braves, sono soltanto quattro ed è anche vero che la National League in questo momento deve ancora definire i valori in campo cosa che invece l'American League più o meno ha già fatto con l'unica differenza che l'American League East è molto più competitiva del previsto già appunto livellandola verso l'alto i New York Mets sono secondi ex equo, potrebbero comunque puntare tranquillamente a una seconda posizione certo è sempre presto, parliamo del primo mese di stagione però non vederli così vicini all'Atlanta Braves quando tutti si aspettavano un duello appunto tra Atlanta e New York Mets fa abbastanza specie soprattutto per me che sono tifoso della squadra di New York quarti sono i Philadelphia Phillies che anche loro non stanno vivendo un grosso momento soprattutto per via dei grandissimi infortuni che hanno va detto però che Bryce Harper è tornato molto prima del previsto si diceva che Bryce Harper dovesse tornare a giugno dopo il Tommy John Surgery e invece è tornato praticamente a maggio con dei tempi record 162 giorni di recupero totale e di piena attività per il fenomeno di Las Vegas ed evidentemente è un record perché nessun giocatore è mai rientrato con questa velocità ultimi sono i Washington Nationals che per la verità non sono così indecenti sono una squadra giovane che sta probabilmente cercando la via per riemergere dopo aver vinto il titolo del 2019 non sono così esclusi evidentemente dall'ultima posizione evidentemente ci finiranno perché Philadelphia è il completo più forte di Washington e Philadelphia va detto è una mezza delusione perché dovrebbe essere secondo o terzo posto in quarta posizione un po' a bagnomaria tra la decisione di vendere qualcuno all'altra Deadline e comprare qualcuno Washington invece non dovrebbe avere grosse ambizioni ultima dovrebbe essere e ultima potrebbe rimanere passiamo alla National League Central con i Milwaukee Brewers che stanno facendo finalmente i Milwaukee Brewers con una prima posizione molto solida quello che in realtà sorprende è il macello che succede dietro i Milwaukee Brewers se l'American League Central è una divisione squilibrata verso il basso da un certo punto di vista lo stesso discorso si può fare per la NL Central al netto che in questo caso abbiamo tutte squadre più o meno presentabili con l'unica differenza che c'è una grande delusa ovvero i St. Louis Cardinals che non riescono a trovare la quadra e addirittura sono dietro i Pittsburgh Pirates e i Sensinati Rezzi i Pittsburgh Pirates stanno continuando a sorprendere questa squadra giovane che sta già puntellando comunque per il futuro vedi per esempio il rinnovo di contratto a Brian Reynolds evidentemente sta avendo delle grandi sorprese dal Monte di Lancio in particolare da Mitch Keller che comunque è un'ottima aggiunta i Sensinati Rezzi invece sono una squadra che non dovrebbe essere lì di solito erano quotati un po' più verso il basso però comunque fa abbastanza specie vedere evidentemente i Rez che stanno cercando finalmente di riemergere dopo anni di obbligo assoluto devono ringraziare soprattutto il fenomeno che hanno sul Monte di Lancio ovvero Hunter Green che sarà secondo me il lanciatore del futuro di questa Lega quarti sono i St. Louis Cardinals che appunto un po' come i Chicago White Sox dall'altra parte al centro sono la più grossa delusione di questa divisione e non solo ultimi sono i Chicago Cubs che sono una squadra con dell'ottimo potenziale hanno fatto una campagna acquisti molto interessante vedi per esempio l'acquisto di Dennis Wonson di certo non l'ultimo arrivato però nel complesso parliamo di una squadra molto giovane che dovrà evidentemente risollevarsi e quindi l'ultima posizione un pochino ci potrebbe stare però mi aspetto che nella seconda parte di stagione i Cubs possano risollevarsi Cubs che comunque hanno evidentemente regalato una soddisfazione in tempi recenti peraltro in una partita contro una squadra di livello assoluto perché parliamo della sfida fatta a Wrigley Field contro i Tampa Bay Rays ed è passata la storia perché il giocatore qui impattato ovvero Marcus Strowman ha registrato una one hitter game la valida in questione è questa siamo nella parte alta del settimo inning Strowman lancia a casa il lancio viene impattato questa breaking ball finisce oltre gli interni nella terra di nessuno ed è un singolino che però sarà l'unica valida concessa da Marcus Strowman il lanciatore di Porto Rico ha effettivamente fatto una prestazione suntuosa che ha regalato questa vittoria significativa contro i Tampa Bay Rays certo non basta per evitare l'ultimo posto però comunque è un milestone molto importante lanciare un one hitter che appunto è di fatto molto vicino a quella no hitter che ogni tanto si vede nel periodo gioco del baseball l'ultima che mi ha commentato su questo canale fu quella di Reed Depmers, rookie all'epoca dei Los Angeles Angels altra storia molto interessante in realtà questa è di fine aprile è del giocatore della nazionale italiana Andrew Maggi che ha giocato al World Baseball Classic qualche anno fa parliamo del 2013-2017 un grande veterano delle minors che ha fatto 13 stagioni evidentemente nelle categorie minori dei Pittsburgh Pirates è stato chiamato evidentemente a fine aprile il 27 e il 30 nella partita compromessa in realtà per Washington punteggio di 12-0 registra addirittura la prima valida della sua carriera in MLB e qui la vediamo una palla che scavalca agli interni viene raccolta dall'esterno centro per Washington è nottefonda in questo caso addirittura RBI per quanto riguarda Maggi 13-0 il punteggio finale questa è la gioia del giocatore 34enne che appunto ha fatto tutta la trafila delle minors per poi esordire in MLB ultima division che andiamo ad analizzare quella solita della National League West anche qui division parecchio interessante perché ci abbiamo delle sorprese delle conferme delle delusioni i Los Angeles Dodgers sono tornati a fare i Los Angeles Dodgers e sono nella prima posizione di questa division con 34 vinte e 23 perse sorprendono invece gli Arizona Diamondbacks che abbiamo detto attenzione squadra molto giovane di prospettiva ma già concreta quest'anno infatti seconda posizione 33 vinte e 23 perse San Francisco risolleva un po' un inizio di stagione molto deficitario e arriva al 50% spaccato 28-28 chi delude è San Diego San Diego che peraltro nell'ultima partita ha buttato via una vittoria una salvezza con Josh Hader che fino ad ora era stato impeccabile però non basta Josh Hader non bastano tutti i campioni per il momento che sono arrivati a San Diego vedi per esempio l'anno scorso qua sotto sulla carta San Diego è una squadra veramente da titolo di division e invece al momento sta arrancando è molto più vicina paradossalmente all'ultimo posto che alla terza ed è qualcosa di clamoroso San Diego che peraltro ha avuto un altro ritorno importante ma ne parleremo ma dopo aver enunciato che Colorado è giustamente ultima con 24 vinte e 33 perse povero Chris Bryant che come sempre è andato a marcire ai Colorado Rockies ed è un peccato perché comunque Bryant è un giocatore di livello ma torniamo a San Diego perché appunto abbiamo parlato di tanti campioni che sono in questa formazione vedi per esempio Juan Soto vedi appunto Josh Hader vedi per esempio Manny Machado potrei andare avanti per ore c'era anche uno bravo con il 23 che doveva rientrare ovvero Fernando Tatis ed effettivamente è rientrato non è stato scambiato dopo appunto lo scandalo del doping e la squalifica conseguente che l'ha fatto saltare praticamente mezza settimana scorsa e parte di questa Tatis è rientrato il 20 di aprile a giocare evidentemente in MLB e il primo maggio è rientrato evidentemente a San Diego stadio di casa e questa è la prestazione al Petco Park ah sì giusto di base Tatis sarebbe un'interbase però considerato che anche in interbase diciamo i San Diego sono leggermente coperti perché hanno preso uno bravo con il due ed Alexander Bogers direttamente dai Boston Red Sox giustamente dobbiamo trovare un ruolo per Tatis e l'abbiamo visto contro i Sessionati Rez una partita vinta 6 a 3 qui la battuta di Ramos viene spedita all'esterno destro dove gioca Fernando Tatis che combina questa cosa qui ricordo questo faceva l'interbase un tempo e alla fine si cimenta anche a fare l'esterno destro con una certa facilità grandiosa presa di Fernando Tatis che in realtà sta facendo proprio Tatis anche dal punto di vista offensivo nella prima settimana ha fatto due fuoricampo quindi il ragazzo c'è tutti questi campioni devono trovare sicuramente l'amalgama per arrivare evidentemente ai playoff San Diego è una squadra che ci deve può arrivare vedremo come sarà allora il recap per quanto riguarda luglio prossimo dunque appuntamento per quanto riguarda la MLB Review a inizio evidentemente di quel mese prima del All-Star Game fatemi sapere cosa ne pensate dunque della vostra squadra preferita del meraviglioso gioco del baseball se avete delle preferenze delle delusioni e cosa vi aspettavate da questi primi mesi di stagione tra un mese mi raccomando tornate qui sul mio canale per il prossimo appuntamento con la MLB Review e saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo a un prossimo video